Tre vantaggi dell'IA nel mondo dei social. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale sta esplodendo e inevitabilmente sta andando a influenzare il mondo dei social media. Da funzioni come suggerimenti individualizzati, modifiche automatiche, creazioni di test, di video e addirittura musica, l'IA sta cambiando il nostro modo di lavorare e non solo. Andiamo a vedere insieme quali sono alcuni dei suoi vantaggi. L'IA generativa ha rappresentato una delle evoluzioni più affascinanti degli ultimi tempi, perché utilizza algoritmi di tipo testo, immagine e video per produrre contenuti super originali e fruibili a livello social. Un ulteriore beneficio riguarda la gestione e l'ottimizzazione delle pubblicità. Gli strumenti basati sull'IA, infatti, possono contribuire a esaminare centinaia, addirittura migliaia di variabili per testare le diverse pubblicità e raggiungere i risultati migliori. Scrivere non è un compito facile. Per questo motivo, molte persone si affidano sempre di più all'intelligenza artificiale per migliorare la loro abilità di scrittura, sfruttandola come un aiuto per generare test originali e personalizzati, a partire da parole chiave, immagini o dati, ottimizzare i test esistenti per migliorare la loro efficacia e qualità sulla base dei criteri SEO, testare i contenuti per valutare il loro impatto sul pubblico. In conclusione, l'intelligenza artificiale si sta rivelando uno strumento essenziale anche per il mondo dei social media. Ora però vi faccio una domanda. Quale parte di questo video è stato scritto con l'intelligenza artificiale?